e col destro che gollo col destro che gollo buonasera amici telespettatori e benvenuti qui su s cap tv per la diretta dell'ultimo big match in ordine cronologico della sesta giornata di seven cup si disputerà questa partita tra i falliti e lo sporting pirozzi questi ultimi con il competino arancione competino rosa invece per i falliti ecco il saluto per il pubblico a corso fin qui sulle colline estreme colline estreme dei camaldoli e poi lo scambio di stretti di mano tra calciatore d'arbitro bel gesto di fair play vediamo le facce sorridenti dei protagonisti capitan prima del tocco dunque da inizio al match i falliti che attaccheranno da sinistra verso destra dei vostri teleschermi ci vediamo per i e lights ciao ragazzi di primo tempo tra sporting pirozzi e i falliti uno a uno il parziale e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inizio di secondo tempo tra Sporting e Pirozzi e falliti sempre 2 a 3 parziale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.